Quante ne sai? Sui portieri Ter Stegen Andanovic Nessuno Nel mio periodo si prendeva tutto da Buffon Uno sicuramente è Sebastiano Rossi Buffon e... Si va su... Bodida Posso dire Siriku Zoff Come posso tirare fuori? Uno è Ghita C'è la verte C'è la verte Io in italiano il primo è stato Rampulla che ha fatto Donna Rumma forse O Buffon No Donna Rumma Sono io Bisogna andare a superare Madrid Pensavo giù di lì Casillas, uno di quelli Sebastiano Rossi quanto ne ha vinto? Navas e dopo? Io Navas Uno o due E' 23? E' vero Che fa? E' Buffon Italia, 100 milioni Un coltiere dell'Ungheria Dell'Ungheria Quello che giocava con il pigiama C'è che giocava con lo tutto grigia Si è caduto a giocare Caduto a giocare Questa va tagliata più C'è un passo Ignorante Ciao a tutti Salutiamo tutti i tifosi del Pisa Ciao Se ti è piaciuto il video Clicca qua